Cambia il regolamento comunale per le assegnazioni degli alloggi pubblici alle famiglie. Il vecchio regolamento, fatto dall'amministrazione leghista nel 2009, sostiene il vice sindaco e assessore al sociale Roberto Grigoletto, nasceva in una situazione economica totalmente diversa dall'attuale. È cambiata meglio la situazione sociale ed economica del nostro paese e quindi anche del nostro comune ed è per questo che un regolamento deve adattarsi a questa nuova situazione. Ci sono vecchie povertà, ma accanto alla vecchie povertà ci sono nuove povertà, anziani soli, padri e madri separate, con figli a carico, moltissimi conviventi e occorre rispondere a queste esigenze, a volte pesanti, a volte anche drammatiche. Abbiamo quindi pensato a un regolamento che vada incontro a queste esigenze, spiega Grigoletto, e cerchi nell'attribuzione del punteggio di dare alloggio a chi ha realmente bisogno. Prima invece veniva privilegiato chi risiedeva in provincia da almeno 25 anni. Il punteggio viene mantenuto, sarà un punto in termini assoluti. Più che altro per le altre condizioni premiali, questa condizione viene scollegata dalle situazioni previste. Mentre in precedenza vi era un collegamento per poter ottenere quei punteggi preferenziali, oltre ad avere la situazione del disagio, era richiesta anche il possesso dei 25 anni di residenza nella provincia. Ora questa cosa non c'è più. Le coppie di fatto presenti nel registro comunale sulle unioni civili saranno inoltre valutate con lo stesso punteggio dei matrimoni riconosciuti dalla legge. Coerentemente con il registro per le unioni civili che il Comune di Treviso ha istituito, verrà riconosciuto un punteggio anche a quelle coppie che convivono, che sono appunto riconosciute in questo registro. Ci sembra una questione accanto a quella dell'equità sociale, anche di riconoscimento dei diritti civili. Grazie. 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 Grazie.